Ciao a tutti amici di Gamma, per un giorno il nostro staff è sbarcato a Zomarin, il parco marino alle porte di Roma. L'occasione è stata una giornata dedicata all'Oriente che, come sapete, tanto ci appassiona, ma stavolta non ha riguardato il nostro amato Giappone, bensì la Cina che ha festeggiato l'equivalente del suo San Valentino. Insomma, un cupido estivo tutto da vivere, la meravigliosa danza del cuore, con le ballerine vestite in costume rosso tradizionale, antiche leggende e l'originale possibilità di lasciare messaggi, dichiarazioni o frasi celebri sull'albero dell'amore. Insomma, una giornata speciale, intensa e magica, tutta da vivere. A lasciarci infine senza parole, sono stati anche gli incontri ravvicinati con i delfini, pinnipedi, pappagalli e amici a quattro zampe. Avreste dovuto vedere il grado di empatia tra gli educatori e gli animali, a conferma del fatto che le due razze non hanno bisogno di parlare la stessa lingua per amarsi.